Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io oggi ero dentro questa casettina rosa Con questa lucina Visto che mi annoiavo ho voluto fare questo video E vi farò vedere un pochino come l'ho arredata Allora, qui abbiamo Queste penne Sì, sono penne Che cambiano colore Poi abbiamo i post-it Qui abbiamo il mio diario segreto Quest'altro coderno, quest'altro coderno e quest'altro coderno Poi qui ho messo una gomma a forma di fenicottero Un finto simple limbo e Peppa Pig Mettiamo tutto a posto Poi se voi leggete qui i miei romanzi di serene Perché qua c'è un altro coderno Sì, ho portato cinque quaderni Perché questo è quello per i romanzi Questo è quello segreto Questo è quello per i giorni alla settimana Questo è quello per tutto E questo è quello per tutto Tutti essenziali Poi qui ci sono un po' di pennine E matite Poi qui c'è l'acqua Qui abbiamo un polpo molto carino Dei pop-it Questa lucina a forma di cuore E poi abbiamo anche questo Questo è il tour Poi ovviamente qua c'è il cuscino E lì si trova E qui c'è il cuscino Marrone perché non ne ho altri E la copertina Poi qua ho preso un coperchio di uno scatolo E ci ho fatto la base Cioè la base Un tavolino e ci metto tutto Beh questo era il tour Poi qui c'è C'è una finestrella Un alberello Delle piantine Un uccellino Beh ragazzi Questo è il tour In questa casettina Che in questa casettina Io ci ho fatto anche Il mio primo video Cioè di più Il mio primo shorts Che è stato il mio Primissimissimissimo video E E Non so più parlare Esatto Questa Era dove ero messa Che ero messa così E c'era un peluche A forma di cane Chi mi segue da Tutta Ma tutta Tutta La mia storia Sarà Saprà Non sarà Saprà Che Quel video Ecco Quindi voi Andate nei miei video Scorrete 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 Nei shorts E penso Che lo troverete Comunque Vi raccomando Iscrivetevi Lasciate like Commentate Attivate la campanellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti